Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreasLayer77 e oggi siamo ritornati su Fortnite Mobile. Sono con un mio amico ragazzi, questo qua che mi sta picconando, che è Leonor Scarpi. È un mio amico in cui giocheremo insieme oggi. E niente ragazzi, devo dire che prima abbiamo fatto delle partite insieme per provare e moriva sempre. Quindi andiamo benissimo ragazzi, guardate. Picconiamo un po' così a caso. Ok, let's go, iniziamo. Dove andiamo a Morse? Andiamo a Parco. Let's go Morse, andiamo a Parco Pacific. Ubarg Pacific. Ok ragazzi, sono atterrato e il mio amico si è fatto un po' perdere la vita da uno che non so chi. Andiamo benissimo ragazzi, guardate. Era meglio non andare in questa città. Sono stato un po' scemo io che ci ho voluto andare. No, vi prego, non può venire qualcuno adesso, non c'è nessuna arma. Il mio amico è ancora vivo, non so come. Andiamo su. Ci dovrebbe essere una cassa qua su, rega, aspettate, vediamo, vediamo. Eccola qua. Cecchino che non mi serve perché non si riesce a cecchinare. No, rega, il mio amico è morto, non ci credo, non ci credo. Eh, non posso venirti a prendere la scheda perché sono un app. No, non ci credo. Rega, mi serve un'arma almeno, un qualcosa. Non posso andar così, rega, muoio. Vabbè, ci proverò. No, non ci credo. Rega, un attimo, scusate dell'attenzione. Let's go via. Dov'è il prossimo furcone? Andiamo qua. Scusa, ma non posso rianimare qua perché ci muoio. Scusa, ma non posso rianimare qua perché ci muoio. Prendiamo quest'arma nel frattempo. Oh, prendiamo questa. Oh, sì, 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 sì. Let's go via. Andiamo, rega, via. Ecco, rega, devo andare da questo furgone che è praticamente qua vicino. Ok, rega, ho ucciso. Una scherra. Donno, orecchie, tensione. L'ho rianimato, rega. Via. Amico, vieni qua che ci sono un sacco di cose. Ok. Amico, andiamo in zona. ok il mio amico è in una brutta zona ma vabbè ragazzi ce lo dovrebbe fare se mai gli do un medikit oppure si cura lui no non ce l'ha amico fermo che ti do un medikit perchè se ne frega amico fermo ok let's go siamo in 32 faccio meglio le partite da telefono che da play regga da play faccio schifo ok let's go c'è qualcuno regga non vedo nessuno non c'è nessuno non riesco spero che il mio amico non muoia di nuovo regga e questo è un mio amico dell'elementare praticamente che adesso non ci vediamo più alle me certe volte giochiamo a forniti insieme però ero un mio amico dell'elementare eravamo migliori amici adesso non so forse ci avrò un altro miglior amico ma l'elementare ragazzi eravamo migliori amici ragazzi ditemi se volete che continuo questi gameplay da fornite su mobile che da un po' che non li porto let's go mi serve il medic damico no il pompe però mi serve ok let's go scappiamo dove è la safe e vabbè perché la safe deve andare così veloce e perché soprattutto deve essere così lontana sta roba è molto brutta no perché sono un albero no raga perché sono così nabbo io ma che capo lo sta facendo dov'è che c'ho il medikit però oh là c'è uno e vabbè cosa sta succedendo ok 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 il mio amico regga è vivo ok si ce l'hanno rischiato un voto let's go regga ce l'abbiamo fatta madonna io inizio ad andare in safe ragazzi perché guardate oh lì c'è qualcuno c'è qualcuno regga là devo provare ad ucciderlo semmai morirò forse ma ci provo adesso qui è un voto no no oh boh, tutto qua è scappato una terra boh, ho acceso no, vabbè vabbè rega bella partita noi ci ribecchiamo ad un prossimo video come sempre spero il video vi sia piaciuto e niente rega, noi ci ribecchiamo ad un prossimo video, fatemi sapere se volete altri video su mobile di forme, ciao rega